Queste iniziative ritengo siano molto importanti per poter integrare il lavoro del chirurgo della mano con il lavoro del fisioterapista super specialista che si deve dedicare al recupero dell'arto superiore dopo un intervento o dopo un trauma. Sono iniziative promosse dall'Associazione Italiana Riabilitatori Mano, sostenuti dalla Società Italiana di Chirurgia della Mano che rappresento e credo che siano fondamentali a livello regionale coordinare e dare una cadenza periodica a questi avvenimenti in modo tale da riuscire a creare una rete regionale per il trattamento proprio del problema dell'arto superiore. Sono confronti che aiutano nella crescita i fisioterapisti più giovani, che aiutano i fisioterapisti più anziani dal punto di vista professionale e di esperienza a confrontarsi sulle tecniche nuove e a noi chirurghi poter avere il conforto e il supporto di figure professionali sempre più importanti a livello territoriale. È un'eccellenza la nostra, quella italiana, sia dal punto di vista chirurgico e fisioterapista e credo che questi avvenimenti aiutino a portarla avanti con successo.